ho messo come titolo i pro di apex legend vecchio quindi dobbiamo dimostrare il nostro valore buon questa è la live dei migliori giocatori di apex legend che ha detto ma se vorranno a pigliare da qua riuscissi a colpirlo almeno una volta è qua ma coppato ma coppato digas faccio a cagare ragazzi mi sa che t'ha visto ma che cosa le hai sparata sto qua dai fili di puttana vieni ottimo ottimo lavoro ottimo lavoro davvero ottimo lavoro no ma questo qui è il riscaldamento questo qui è il riscaldamento Andy Colley è il jumper master stordire e spaccare ragazzi oh Dark Angel si è già staccato fa già il fenomeno non mi piace ah neanche a me piace andiamo a copparlo sotto madre perdoni perché loro non sanno quello che fanno io c'ho lo shuriken naruto bene usalo provo un drone di guarigione bella grande vecchio che ha messo il drone di guarigione non sono stato io ecchio non so neanche come si fa a mettere il drone di guarigione però prendo gli shuriken io ma che cazzo stai a dire ecco lì ecco lì andrà tutto bene grazie buono mi ha rifatto fuori ottimo seconda partita è andata alla grande è solo il riscaldamento ragazzi adesso è senza le vere partite noi siamo così noi siamo così noi siamo un diesel iniziamo lenti e andiamo forti dopo eh sì esatto un diesel maledizione non ho la minima idea di che sto dicendo no ci invita nel gruppo questo qui no no non ci caschiamo ah entriamo dov'è ah qua invita nel gruppo dov'è in due l'invita nel gruppo non è che si fa accettare l'invita ah no ma siamo noi che lo invitiamo nel gruppo non accetterà mai facciamo troppo schifo accettato ok ciao dark angel questa partita più brio dai dobbiamo bere un po' di coca per caricarci questo potrebbe essere un buon posto per atterrare questo? io mi fido di un nemico è appena atterrato vicino a me occhi aperti nemico nemico abbiamo compagni di oseto il rinfuono nemico stiamo a farla stiamo già nell'anello lancia a farla sono a terra ho bisogno di un medico sono occupato di un medico ma ha occupato anche me sto chiamato abbia se porco dark angel dai spiegati buono smettila di lanetti ci penso io buono in tre siamo riusciti a farne fuori uno in tre siamo riusciti a farne fuori grande in trene quest'arma quest'arma mi piace un campione è caduto mochi dimmi dove sei è meglio riunirci buono andiamo andiamo dal nostro amico che già scudo evo ce l'ho già oh ma quello lì è un killer porto cane ragazzi state vedendo in diretta un killer oh andiamo a evitare sto dark angel l'abbiamo fatto raga come una vera squadra lancio granata termite in corso stanno andando di qua sono qua sopra sono qua sopra sono lì sopra sono lì controlliamo quella zona andiamo in tre che magari facciamo tutti bella grande archangel ce l'avevo dietro bravi ragazzo mi curo copritemi vai curati curati oh vecchio ma abbiamo abbiamo in squadra un giocatore della madonna questo qui è forte secondo me è arrivato il momento di di nascondersi di nasconderci io sono L oh ma lui è una macchina da guerra eh sì proseguiamolo è l'angelo nero dark angel fischia moci tv non può essere da meno come nemico fuori gioco non ho fatto niente i veri pro sono così i veri pro sono così ragazzi cioè anche non fanno vedere i nemici che muoiono muoiono da soli praticamente nella tua live e anche l'ultimo è a terra e anche l'ultimo è a terra buono e anche l'ultimo è a terra ragazzi sono il leader uccisioni non si scherza con me fischia il raga non ha ancora ammazzato uno eh io sono da solo ragazzi sono da solo ho paura Andy è scappato Andy è scappato perché preferisce stare vicino al pro che a me scarico gli scuri cortina di fumo un mico dietro scudo nemico infrattore drone di guarigione se mi hai bisogno ricarico gli scuri 2 seta scudo nemico mi stanno sparando bersaglio eliminato non sta fermo un secondo oh nemici il nostro dark angel è capo no no il dark angel è morto ti ho bisogno di aiuto scudo mi stai in una zona stiamo in una zona andiamo in una zona andiamo da questa parte andiamo da questa parte sono tutti là eh ho bisogno di aiuto qui vado a rianimarlo vado io vado io vado io copro andiamo da questa parte ci sono altri nemici dall'altra parte aiuto raga sto facendo una cosa buona in tutta la partita l'unica cosa buona ma la cosa che ci farà vincere la partita aspetta che si sta guarendo aspetta eccolo lì sono tutti là quando è pronto Dark Angel andiamo tutti Dark Angel è pronto uno fatto grande Dark Angel mamma mia mamma mia li abbiamo occupati tutti mamma mia è partita ragazzi sono qui mi sta rianimando io copro io copro sono lì dentro? si sta dietro l'ho fatto fuori uno ecchio io non ho munizioni con niente io non ho munizioni raga aspetta un po' io ascoltate sono un sottotiro nemico ucciso vai Dark Angel vai Dark Angel si 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 l'abbiamo fatto fuori campioni campioni i campioni non ci credo non ci credo raga ma Dark Angel è un fenomeno Dark Angel ha dimostrato che in questo cazzo di gioco sarebbe essere bravi perché ha giocato con due scarsoni ha vinto figa e non ci credo sia che in questo caso sono un po' io dopo un po' io è un po' io ci credo